Il Comune di Portigliola resta sciolto per Andrangheta ad affermarlo la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con una sentenza pubblicata il 24 novembre. Il ricorso era stato presentato dagli ex amministratori del Comune di Portigliola guidato dall'ex sindaco Rocco Luglio. I giudici amministrativi hanno rilevato che ciò posto nella specie l'attività d'indagine ha riscontrato un quadro insieme tale da giustificare l'intervento statale ai sensi dell'articolo 143 to L all'esito di un ragionamento del tutto coerente e che perciò resiste alle censure di legittimità articolate in ricorso. Del resto lo scrutinio del giudice amministrativo in materia si arresta ad un esame estrinseco non sostitutivo con il quale si verifica se gli elementi indiziari emergenti dall'istruttoria siano in grado nel logico ragionamento dell'amministrazione di delineare quel pericolo di insinuazione criminale di cui si è detto in precedenza. Nel caso di specie è emersa in primis la presenza di una rete di rapporti parentali e di strette legami di frequentazione degli amministratori legali e del personale amministrativo con soggetti appartenenti a clammafiosi. Inoltre hanno assunto rilievo significativi precedenti di polizia nei confronti di taluni amministratori e di taluni dipendenti dell'ente. Il valore sintomatico è stato altresì conferito alla frequente ingerenza del vertice politico nelle scelte amministrative in violazione del principio di indipendenza nella gestione dell'ente nonché ripetute irregolarità nell'ambito di settori sensibili quali quello degli appalti di lavori, servizi e forniture notoriamente esposto al condizionamento della criminalità organizzata.